Secondo un decreto ministeriale, 67 comuni nel Selernitano dovranno accogliere i rifugiati. Tra questi comuni c'è anche San Giovanni Appiro. Sì, innanzitutto vi do il benvenuto a Trekking TV qui al comune di San Giovanni Appiro. Ci dà la possibilità anche di chiarire questa venuta di Trekking TV, quella che è la vicenda che si sta vivendo in relazione all'impegno che è stato chiesto anche al comune di San Giovanni Appiro. Io sono stato alla riunione con il prefetto a Selernitano. A seguito di questo decreto si chiede di effettuare un progetto affinché si spalmi l'accoglienza di, mi sembra, siano 200.000 migranti su tutto un territorio, al fine di non gravare un unico territorio, ma al fine di consentire a tutti i comuni un'accoglienza possibile e sostenibile da parte di comunità piccole come le nostre. La cosa che ci è stata prospettata è quella di accogliere tre persone per ogni mille abitanti. Io penso che anche in relazione a quello che è il nostro background religioso, cioè il nostro credo religioso, il fatto di essere cattolici e cristiani, quindi avere un senso di prossimità e di vicinanza al prossimo, penso che mille persone siano in grado di aiutarne tre. Qualsiasi religione, a qualsiasi religione appartengono, qualsiasi sia il loro credo religioso, qualsiasi sia la loro provenienza. Anche perché io ritengo che questa è una situazione che va affrontata prima che diventi un problema, perché i migranti quando non sono stati ben gestiti possono determinare delle situazioni di pericolo, come si sta determinando in Francia, come si sta determinando in altre nazionalità, perché abbiamo, secondo me, anche il dovere di restituire un'accoglienza che è stata fatta ai nostri migranti tempo fa, perché c'è una proporzione numerica che ce lo consente, c'è la necessità di intervenire prima che lo Stato intervenga e ci imponga determinate situazioni, anche di carattere numerico. Allora, io ritengo che il Comune di San Giovanni Appiro si possa far carico di queste tre persone ogni mille abitanti in maniera tale di anticipare quelli che potrebbero essere dei procedimenti di carattere impositivo, quindi da parte del Prefetto, anche perché il Prefetto, nel momento in cui non ci saranno dei progetti che potranno distribuire queste persone che si regano in Italia sul territorio italiano, dovrà per forza prendere dei provvedimenti ed allocarli di imperio in una determinata località. È chiaro che nove persone su uno spettro di 4.000 abitanti sono facilmente collocabili e sono facilmente integrabili nelle nostre realtà. A San Giovanni Appiro già ci stanno delle comunità straniere integrate, quindi non sarebbe una novità di questo tipo. C'è anche una considerazione da fare. Io sono stato in questi posti e c'è una considerazione da fare. In pratica noi dobbiamo anche assumerci come paese occidentale la responsabilità di chi ha fatto anche per noi, perché purtroppo determinate alleanze hanno determinato degli scenari di guerra e quindi bisogna anche considerare il fatto che queste persone non è che vengono in vacanza oppure perché gli piace le nostre località turistiche. Purtroppo si trovano a fuggire da scenari di guerra dove devono scegliere fra la morte e la sopravvivenza, affrontare un viaggio con dei figli piccoli, con delle mogli a carico, con un futuro incerto, un futuro che certamente non è un futuro rosio, perché dovunque vanno trovano delle porte chiuse in faccia, dovunque vanno trovano una situazione di odio, di diffidenza, di una certa volontà di non comprendere quelli che sono i bisogni altrui. C'è quasi una chiusura. Io ricordo a me stesso che San Giovanni Appiro è stato sempre un paese di accoglienza. Lo raccontavo prima a voi, una situazione informale. San Giovanni Appiro ha sempre accolto altre comunità. Io ricordo mia nonna che mi raccontava che San Giovanni Appiro ha accolto delle persone del Veneto e del Friuli, quando c'è stato il terremoto in Friuli. Si sono addirittura stabilite qua e c'era questa volontà di accoglienza, di accogliere, di dividere il pane, di spezzare il pane con loro quando c'era una situazione di povertà più diffusa. Adesso invece che siamo a un livello, non dico che siamo bene, perché ognuno ha i problemi anche economici propri. Però ritengo che siamo ancora in grado di poter spezzare il pane con il nostro prossimo e non dirigergli un muro per evitare che possa essere accolto in casa nostra. Il Comune ha già pensato a una struttura dove questi rifugiati verranno alloggiati? No, non ha pensato ancora a una struttura perché sta predisponendo un protocollo di intesa con la Prefettura, anche perché non sappiamo il tipo di migranti che verranno attribuiti al Comune di San Giovanni Appiro. Quindi andremo poi con questo protocollo di intesa, in pratica muta quello che è il sistema di gestione. Cioè con gli Sprar la gestione verrà affidata al Sindaco. Quindi piuttosto che lasciare al Prefetto la necessità di dover determinare il futuro di una comunità su una comunità che non conosce direttamente, invece in questo modo il Sindaco si riappropria di una capacità di gestione del proprio territorio e decide come meglio allocare quelle che possono essere delle situazioni di ospitalità. in relazione a quello che poi la Prefettura ci dirà e ci verrà affidato nel corso di questa determinazione del protocollo poi decideremo come collocare queste persone. Devo dire che il Prefetto ha spiegato quella che è la legge stabilita dal Ministero, questa disponibilità da parte del Comune. Quindi questa disponibilità a partecipare a questo progetto di accoglienza determina una serie di garanzie per il territorio stesso. Innanzitutto il fatto che sul territorio non potranno entrare soggetti privati che potranno gestire con una mentalità diversa da quella del Comune. Perché mentre il Comune va a operare per un interesse collettivo e quindi per un interesse a stare bene tutti e l'interesse privato certamente non ha le stesse logiche e le stesse finalità. Quindi evitare innanzitutto delle speculazioni su quelle che è una situazione di carità cristiana. Quindi la speculazione poi in queste situazioni di bisogno diventa veramente di un cinismo e di una cattiveria che è inaccettabile per noi quantomeno. Dall'altra parte c'è la garanzia che dato che questo piano è sovradimensionato rispetto a quello che dovrebbe essere l'effettivo flusso che dovremmo accogliere c'è la garanzia che questo sarà il numero massimo che viene affidato alla comunità. C'è poi nel momento in cui si aderisce a questo protocollo c'è questa delega da parte del prefetto alla gestione locale del fenomeno. Quindi in questo modo il sindaco potrà decidere in quali case dovranno essere allocati i migranti in quale dovrà essere la loro destinazione. C'è anche una possibilità di spesa perché questi soggetti dovranno poi spendere questi soldi destinati all'interno del territorio. Quindi in questo modo il sindaco può anche determinare dei flussi che potrebbero essere addirittura una risorsa perché comunque si creerebbe un flusso di spesa che verrebbe poi investito non nei grossi centri commerciali ma nell'ambito di quelle che possono essere le attività locali. Io ricordo a me stesso che nel comune di San Giovanni Appiro ci stanno molte case, molti rioni con case chiuse. Quindi certamente queste case non vengono occupate gratuitamente verranno occupate con il pagamento da parte dello Stato di quelli che sono i cani di affitto per cui chiaramente case che devono essere adeguate a quello che può essere un'ospitalità dignitosa di questi che sono i migranti. Allo stesso modo queste persone potranno poi essere impiegate da parte del comune e dovranno essere impiegate da parte del comune per lavori di carattere socialmente utile. Io ricordo a me stesso che nel vuoto che la provincia ha determinato in relazione a quel buco di spesa che è stato creato con questa incertezza se le province dovessero scomparire o non scomparire e gli si è tolte tutte quelle che possono essere le risorse finanziarie. Quindi troviamo delle strade che purtroppo non vengono manutenute come dovrebbero. Abbiamo un sacco di carenze di manutenzione e penso che queste persone ci possano aiutare anche a manutenere il nostro territorio. Quindi questa è la direzione che sta prendendo il comune di San Giovanni Appiro. Penso che sia giusto sia da un punto di vista amministrativo ma che da un punto di vista proprio di spirito etico, morale, cristiano proprio sia giusto collaborare per poter aiutare e poter evitare che è un fenomeno che comunque ci sarà. Perché ormai questa fusione, questa fuga di queste persone dal loro territorio è il territorio italiano che è il più vicino a quelle che sono le loro coste. È una situazione che o si affronta come fenomeno o dovrà essere affrontata di qui a breve come problema. Allora è meglio agire di anticipo e affrontare la situazione e creare e accompagnare questa fusione di popoli con uno spirito cristiano di accoglienza e di collaborazione piuttosto che andare allo scontro che non dà mai buoni frutti.